Achille, so che mi stai ascoltando e continuo a volermi bene. Hai detto che facci video a Parana, vero? Non puoi abbandonare, non te ne puoi andare, dopo avermi scritto quel ruolo meraviglioso di Luca. Non puoi andare. Senza avermi scritto un altro luogo a cui dare tutto il mio talento. Sei stata brava, dai, sei stata brava. Andiamo, andiamo. Anch'io.